Esattamente cinque mesi fa a San Bassiano l'equipe del primario Giovanni Grano eseguiva per la prima volta in una struttura pubblica del Veneto un'operazione di protesi all'anca con il robot chirurgico. Oggi dopo 50 interventi all'anca, tutti con ottimi risultati grazie alla precisione del robot, a San Bassiano nuova fuga in avanti con relativo primato. Effettuati i primi due interventi di protesi al ginocchio, anche questi perfettamente riusciti, la strada per il futuro è ormai segnata. Percorrendo questa strada innovativa cerchiamo di andare avanti sempre dando dei risultati migliori poi al paziente. Oggi è andata bene e come tutte le cose all'inizio è sempre un po' da mettere in tiro un po' di cose e l'intervento è perfettamente riuscito, siamo contenti. Adesso facciamo il secondo intervento più tardi e poi proseguiremo per questa strada. Ma il robot al pari di una potente auto da corsa di Formula 1 ha bisogno di un pilota che lo sappia guidare e che lo controlli, trasformandolo in un prezioso alleato del chirurgo. Col robot bisogna parlare, non dobbiamo soltanto ascoltarlo, bisogna parlare. Il robot ci dà delle indicazioni molto precise e noi dobbiamo saperle interpretare e mettere a frutto la nostra esperienza di chirurghi, diciamo, tra virgolette tradizionali con la nostra esperienza di una chirurgia manuale, dobbiamo metterla a punto e sfruttare queste informazioni che ci dà la robotica per migliorare poi l'outcome dei pazienti. Una tecnologia questa che rende San Bassiano sempre più centro di riferimento regionale per la chirurgia mini-invasiva delle protesi. Il primario lancia un messaggio ai giovani specialisti che devono sia applicare la chirurgia tradizionale ma anche guardare oltre. E poi avvicinarsi alla chirurgia robotica perché sicuramente il futuro sarà la chirurgia robotica nella chirurgia ortopedica e per cui questi giovani oggi, fra dieci anni, si troveranno a parlare solo col robot. E accanto a questo robot è bene ricordarlo, è già attivo da tempo il robot Da Vinci e importanti novità sono attese nelle prossime settimane.